3, 2, 1, go! Buongiorno ragazze e ragazzi Oggi siamo ritornate qui con un nuovissimo video Natalizio! Slime! Viva lo slime! Sono proprio Natale! Sì, abbiamo messo anche i cappellini, molto gnie, molto hippii Allora, faremo lo slime con gli occhietti e i glitter Gli occhi e i glitter e poi gli ingredienti che sono subito subito Scrivete a barba, crema, crema e acido borico Ciotole e non mi ricordo le stecchette E colori! Io faccio il verde e giro il blu Non so se niente come parevo No, no, prima avevo fatto un coso che si pitturava Quindi noi li abbiamo trovati là dentro Oh, sì, il verde ci entra perché è natalizio, sì Quindi E' la notte di Natale Tutto il mondo resta a cantare E' la notte di Natale Proviamoci Vai! 3, 2, 1, go! Mettiamo la colla, la colla Giulia lo sa la metto sempre io Che non vuole No, ma sono già sporca dalla ciotola e poi le mani Perché non è bello? Cioè Mettiamo un po' di colla Con la notte, con la notte Basta No Giulia non te ne metto più E dai! Vai, vieni E' già non finisce dopo, sa Un pochino di più Basta, basta Troppa Troppa Un po' troppa per i miei punti Ecco Però mi piace la notte di questa colla Però non è buona raga Non è buona raga, non è buona Non si mangia, non è che... Allora poi mettiamo... No, io la metto la stima alla colla No, io la metto pochissima No, pochissima Non lo so Io inizio a mettere la crema Finito Un po' qua Basta No raga, però io la posa perché quella è di una schiumata barbara che cresce Chiudi Non è successo niente Ehi! Hai proprio uscito un quintale e ti prega Ora metto il verde Io metto il blu Di vita del blu Felice testorella Guardate quanto verde ho metto tantissimo E iniziamo a mescolare A mescolare Viene un verde menta bellissimo No, non è vero Viene un verde pastello Guardate A me non si vede tanto il blu Però dopo ve lo farò vedere il risultato Tante viena celeste Lo so Però se metto il blu Viene celeste Così Per dire Madonna, secondo me non è troppo bello Ragazzi, chiama il Natale Io Io lo amo Il Natale È La festa Geniale Prima Io metto il gul Tor Argento Mi sta già un po' Un belen Bene Bello è questo Bello è questa roba Che escono tanti glitter in una sola botte E ne sto mettendo anche troppi Però non me ne frega perchè voglio farlo tutto E aspetta aspetta allora io ora metto i glitter ah tutto argento questo slime sarà bellissimo guardate quanti glitter che ci sono tantissimi bellissimo verrà perchè a me piace e ho comprato i glitter solo per tutto ciò io non me ne frega quanti li metto cosa? non ti ho capito? ti hai detto? non fa niente quando li metto mamma mia come ti metto io ora metto gli occhietti che sono la parte più bella vediamoci un po' ehi vuoi uscire? asciuta anche i ragazzi che sono soldati basta mi stai consumando tutti i glitter io devo fare altri slime c'è potete capire bellissimo metti i tuoi occhietti abbiamo degli occhietti ciascuno vai tutti quanti li devi mettere perchè sono pochini sono così vabbè dopo ve li faccio vedere uno solo ve li faccio vedere è una solo da vedere tutti li devi mettere è bella ragazzi è bellissimo sembrano delle vangole dentro uno slime wow guardate è fighissimo metti stai sto mescolando io metto altri glitter li voglio mescoli quanti cacchio li ho messi ragazzi li ho messi rossi rossi troppi anche guarda fa niente la vita è bella perchè sono i glitter sentite fanno il rumore che bello wow è pieno di glitter beh è arrivato il momento ragazzi si deve addensare l'acido al borico acido al borico mettiamo solo tanti si faccio io no aiutatemi stavo facendo cadere l'acido borico e stiamo ucciti lì perchè tu devi mettere l'acido abbondiamo ma dai non troppo perchè altrimenti dopo non sta densa dove si sta densa c'è il micidiale però nooo c'è raga si sta densa subito sta densa però non lo dobbiamo fare troppo densa perchè altrimenti gli occhietti scappano credo oddio è bellissimo ragazzi vai ce la posso fare sto facendo una gara di mescolazione ce la posso fare dai ce la posso fare anche io non ce la posso fare mi sto facendo male si sente aspettate no forse è ancora un po' lipidoccio no dammi un po' di schiuma barba e ragazzi dovete sapere che io ultimamente ho scoperto che la schiuma da barba fa dentare gli slime non so il perchè però di più di più io mescolo non voglio sporcare le mani non voglio sporcare le mani voglio sporcare le mani dai io si me le voglio sporcare per voi però non lo faccio per nessun altro faccio quella magica per tutti i magichini e magichine ma quando vai no io sto facendo tutto per voi ragazzi stai sprecando le mani stai sprecando le mani tutto per voi mamma non venire di qua non ti consiglio ragazzi noi facciamo saludani ma alcuni ne facciamo belli eh però danni guarda come è bello saludani aspetta è troppo bello guarda c'è io adoro vedete 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 c'è e sono bellissime e a me è blu perchè a me in certo mi piace quindi è bellissimo è la notte di natale tutto il mondo vuole essere natale bellissimo ragazzi che dai bellissimo lasciate like a chi piace tutto è la notte guardati oddio c'è no dove no zitta zitta shhh 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 dai aspetta facciamola a essere miele no aspetta devo prepararlo ma questo occhio celeste sta sempre in mezzo a tutti cari dai vai pronto shhh sped sped ragazzi bellissimo siamo tracontente questi sai che facciamo giuria mi avevo un'idea questi li mettiamo nelle ciotoline li decoriamo un po' con la roba natalizia e li mettiamo sotto l'albero che dici? ahahah pazzino questo come le appendiamo sotto l'albero? oppure compriamo le palline trasparenti quelle là trasparenti le chiediamo e le appendiamo sull'albero allora questa è la prima del dis però tu sei bella mazza perchè se cadono le palline si rompono sporchiamo il caldo sporchiamo il caldo e quindi io la voglio ritiare tu sei scemmo che cacchio io rischio no ragazzi no non rischio non lo fate e non si mangia lo slime che si ingetiamo non si mangia non si mangia non si mangia no 3 2 1 go quindi ragazzi questi erano i video spero vi sia piaciuto ah ne è piaciuto tantissimo iscrivetevi a instagram marghe giulia kawaii per il primo basso official su facebook marghe giulia kawaii real sul secondo canale marghe tv su musica ricchiaccia la marghe giulia real e noi ci vediamo al prossimo video se vi vi piaciuto lasciate like i miei video se iscrivetevi al canale e tantissime altre cose se invece non vi è piaciuto shhhh